Altro gruppo in finale questa sera, il nome del gruppo è formazione The Electric Ship, io sono Matteo, sono il cantante, qui abbiamo Davide, chitarrista Electric Ship come pecore elettriche, non come navi elettriche come ci hanno detto tante altre persone Poi abbiamo Marco Bassista, Matteo Batterista e altro chitarrista Francesco Sono nato insieme da molto 2007? Sì Dal 2007 4 anni E dal 2007 la formazione è sempre stata questa Qualcuno se n'è andato, spero siamo noi Il genere che fate, quello che proponete, caurca genere, bello Un bel genere, noi assuriamo un bel genere